Questi qua sono i 300 cartoni che ci sono avanzati dagli altri donazioni che abbiamo fatto dieci giorni fa, abbiamo aiutato le famiglie e proprio mi chiedevo in questi giorni dove metterli. Gli altri giorni è successo il problema in Croazia e quindi mi sono subito corso a disposizione. Vestiti, libri, giocattoli per bambini sono solo alcuni dei materiali raccolti da Lorenzo Gentile per il Natale dei Triestini in difficoltà. Quello che è avanzato con l'aggiunta di altri beni come coperte e capi invernali andrà a dare conforto ai terremotati della Croazia. L'ormai noto Triestino on the road intende partire entro il 15 gennaio e in contatto con la comunità croata di Trieste invita la popolazione a fare altre donazioni. Sono tutti quanti vestiti, vestiti da uomo, donna, bambino, neonato, ci sono tante coperte anche, stiamo raccogliendo coperte, piumini e la cosa che ci interessa è tutti i alimentari, i generi di prima necessità. La raccolta comincia lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8, qua alla TS Box, dalle 17 alle 19 e 30. Chi vuole mandarmi qualche messaggio o qualcosa mi chiami 351-5383-235 o mi contatti sulla pagina mia sul gruppo Facebook o il profilo mio Lorenzo Gentile. Il punto di raccolta si trova alle noghere nella zona dei concessionari d'auto, c'è ancora un po' di spazio nel container preparato per l'occasione. Allora partiremo entro il 15 sperando di trovare un appoggio giù, trovare una lista delle persone e di farle cose in maniera corretta.